nessuno lo cerca, poi al fine va a Liverpool non va in una squadretta Dicevo che Federico Chiesa è stato penalizzato almeno io ti riporto quello che è il sentire gli ascoltatori noi accogliamo un milione al giorno quindi discretamente il sentire popolare ci arriva ti dico che Federico Chiesa nell'ultima stagione a quello che ci arriva molto delle persone è stato snaturato da Allegri a colpe sue a livello di personalità di leadership di sapersi adattare dell'allenatore di saperlo valorizzare insomma in questa commistione di colpe c'è stato un addio fisiologico con la Juventus anche perché di fatto con Tiago Motta evidentemente questo amore non ha mai combaciato in più il contratto in scadenza in più non accettava di diminuirsi lo stipendio insomma metti insieme tutte queste cose Riccardo e Chiesa Juve era una storia destinata a finire il punto è che quando un giocatore chiede così tanto dopo un'annata così difficile di stipendio alla fine non non arrivano certe offerte soprattutto dall'Italia non è stata una prima scelta per il Napoli non è stata una prima scelta per la Roma era esima forse scelta per il Barcellona che insomma con i conti più disastrati di Europa poi ha provato Leao Jorgen Mendes ma non ci è riuscito e Liverpool ci ha sorpresi guarda ci ha sorpreso molto che sia uscita questa pista anche perché ti dico che nella sua storia di quest'estate il Liverpool non aveva fatto neanche un acquisto ha cambiato allenatore che cambiare l'allenatore da Klopp a Schlott è cambiare la vita però poi non ha cambiato niente sul campo non ha cambiato niente è stato l'unico acquisto dell'estate del Liverpool è stato Federico Chiesa che è stata un'occasione mi incuriosisce molto vederlo tatticamente su quella corsia di sinistra con Robertson questo schema di Slott aspetta Harry fammi un commento di Vivio sulla questione Chiesa perché ormai Vivio è stato virale con il messaggio di Federico Chiesa lo senti lo conosci c'è un rapporto lo sapevo alla fine ha fatto un favore si può dire perché magari non lo tratta in questo modo non lo mette fuori rosa si accasa altrove invece aspetta Marcellona Liveto ha fatto un favore avendo parlato con lui però devo essere sincero non so ovviamente l'altra faccia della medaglia che fosse venuto fuori delle cose che lui mi ha detto non fossero vere cioè che lui ha chiesto rinnovo al doppio dei soldi lui ha detto che aspettava di parlare e poi gli è stato comunicato che non faceva parte del progetto punto nascente da parte della società secondo me hanno vinto tutti lui ha preso i soldi lui è andato in una squadra fenomenale e quindi va bene così mi dispiace solo quando molto spesso conosco le situazioni dall'interno e mediaticamente vengono fuori delle cose che non sono vere mi dispiace ma lui avrebbe accettato il rinnovo alla stessa cifra Vivio? non lo so io non ho parlato di quello io so solo che lui non si è proprio da quel che mi ha detto perché devo essere sincero non si è mai seduto a parlare di nessun rinnovo ma Liverpool secondo te è piazza giusta? cioè in Inghilterra lo vedi bene se non è giusto Liverpool si lo vedo bene perché hanno tanti spazi perché fanno un calcio offensivo perché tante volte si potrà trovare avere uno contro uno e secondo me va in un posto dove le sue caratteristiche sono esaltate per me lo sarebbero state anche con Tiago Motta ma credo che sia proprio una decisione non solo legata a mi piace o non mi piace il calciatore passa avanti giocatori di caratteristiche diverse uno stipendio importante che si sono tolti e va benissimo così nel senso è una è una decisione tecnica va bene Harry scusa ti avevo interrotto la domanda per Marco no ma il contatto due o tre volte mi sono spostato perché col mobile così non riuscivo a capire se non ci vedo bene io c'è i mobili in diagonale quindi ma no sono obliquo sono obliquo sono obliquo ok ok senti ma alla fine ha vinto Chiesa ha vinto Chiesa noi sappiamo che lui comunque lui De Rossi piaceva moltissimo lui voleva fare la Champions ha fatto la Champions va a prendere tantissimi soldi e va in un club prestigioso quindi Chiesa la Juve perde e Chiesa vince allora guarda io sul discorso perdere e vincere poi credo che poi le verità siano nel mezzo Chiesa e la Juve avrebbero vinto se questo matrimonio fosse andato come sperato perché hanno speso tanti soldi perché hanno puntato su di lui presente e futuro e poi si sa insomma Emiliano lo sa lo sa chi è giocato a calcio lo sa chi racconta il calcio ci sono tanti fattori eh di famiglia di rapporti eh di allenatori di moduli tante cose che poi non ti fanno sposare con quell'ambiente in quella stagione era una storia che quest'estate era destinata a finire eh questioni economiche questioni di contratto questioni di progetto questioni tecniche cioè metti insieme tutte queste cose Chiesa e la Juve non ci poteva più stare io credo che insomma andare a Liverpool sia una situazione in Inghilterra dicono win-win cioè dove difficilmente perde qualcuno lì se ragione con Salah con Diogo Cota con Nunez da quella parte c'è Schubo Schley a centrocampo Robertson sulla sinistra può veramente fare un passo avanti anche di di carriera e ritrovarsi anche perché poi andrà a fare l'esterdo sinistro quindi è la prova posso fare una domanda certo io non a te leggevo i messaggi della chat e dicono lui non si è seduto Ramadani ora io mi chiedo io conosco personalmente Chiesa personalmente Ramadani e personalmente Giuntoli e non lo so vorrei sapere come ora ti leggo no seriamente ma blocca no ma no lo scontiamo lo sanno e io no sono curioso voglio saperlo no perché su Chiesa c'è stato un racconto pubblico che ha portato anche ai tifosi della Juventus dire è uno che vuole troppo e la Juventus non lo vuole più ma ci sta però sto dicendo appunto che conosco tutte e tre le parti personalmente e non lo so come fa uno a avere la verità mi chiedo sta cosa ah no non do la colpa loro ma do la colpa al racconto che c'è stato intorno a Federico Chiesa come uno che ha chiesto la luna alla Juventus e per questo la Juventus ha scelto di andare altrove non è andata così non è stato proprio però Riccardo era a scadenza facciamo i nomi i cognomi no no facciamo i nomi i cognomi quando Lorenzo Pellegrini qui a Roma lol il capitano il figlio di Roma a me non me ne frega nulla lui ha firmato è andato a scadenza 4 milioni e mezzo un milione e mezzo alla firma adesso lui prende un milione di bonus ogni giorno ma che fintra con Chiesa ma che deve fare però non ho capito no no cioè lì parliamo della follia della piazza che deve costantemente trovare un nuovo De Rossi un nuovo Totti e quindi il capitano è di Roma è proprio diverso Pellegrini è colpa ma che colpa se gioca se lo pagano no intanto c'è differenza anzi Pellegrini è ancora più colpevole perché fa il tifoso della Roma e poi non è così Chiesa ci sta che chiedete più perché sta a scadenza Ramadani non è che è un tonto lo fanno tutti quindi non c'è niente di colpevole è tutto giusto no ma questo fa il suo mi pare domandare a Marco visto che poi non ci saranno immagino in questi ultimissimi giorni di mercato dei colpi clamorosi diciamo il grosso è fatto con tutti con tutti gli ultimi movimenti il Napoli la Roma la Juve Sancio vado vado così a paraccio allora Juventus Sancio io ricordo di Sancio Gedeon Sancio quando se mi parlava veramente come il giocatore destinato a diventare il nuovo trascinatore in Inghilterra in Inghilterra ogni tre per due sperano di averne di averne uno e vi dico insomma c'ho anche vissuto quindi conosco molto bene la l'idea della stampa e del pubblico anche inglese Sancio Juve poi la Roma vedremo se insomma farà un colpo a centrocampo come pare Roma e Milan che stanno provando a farlo questo affare Abram Salome e Kerpio con Guaglia non mi sembra insomma un colpo di poco rilievo se la Fiorentina sta provando prima ne parlavate Baturina un giocatore per cui in Croazia chiedono 20 milioni mi sembra che questo è un affare economicamente rilevante e poi c'è tra gli affari c'è Osimen che è un giocatore che comunque al Napoli porterà tanti soldi certo è un'uscita perché il giocatore del Napoli se l'è già preso vado così a braccio ma non da cronista ma da opinionista podio di quelle che si sono mosse meglio secondo te io allora qua siamo veramente sul discorso delle opinioni perché poi i pronostici si ribaltano sempre alla fine diciamo che allora la Juventus non per valore della rosa finale perché magari una parte è nettamente più in basso e quindi non può raggiungere l'Inter per esempio che era la capolizza però proprio quelle che si sono mosse meglio allora la Juventus per quelle che erano le idee del direttore sportivo e quelle che si sono concretizzate poi sul mercato mi sembra che abbia capito la legge dei vasi comunicanti voleva spendere tanto per il difensore Calafiori non ce l'ha fatta quei soldi li ha messi in un altro ruolo ha preso Coppominers dietro andate allora